Nuove sfide e impulso all'innovazione sociale nel nuovo contratto aziendale di secondo livello della Iguzzini Illuminazioni S.p.A. firmato dopo dieci mesi di confronto e presentato nel corso di una conferenza congiunta tra azienda, RSU e sigle sindacali, Filtem CGL, Femca CISL e UGL. Per la prima volta si fa una conferenza stampa richiesta dal sindacato con l'impresa, con l'imprenditore e questo è un segnale forte per il mondo esterno perché i contenuti di questo contratto integrativo sono contenuti estremamente trasparenti, sfidanti, innovativi comunque, dove veramente partecipano tutti i lavoratori singolarmente al successo del progetto stesso. in quanto avendo applicato i parametri del WCM che prevede scarti zero, difetti zero, magazzino zero e zero infortuni e tutto è basato appunto sulla qualità, l'efficienza e i valori del primo espresso perché è soltanto in questo modo che se siamo efficienti, se riusciamo ad avere una maggiore produttività, chiaramente riusciamo ad avere delle riserve, dei benefici economici che possono essere distribuiti ai lavoratori. Nell'accordo l'adeguamento retributivo viene determinato in base a due indicatori, l'andamento economico dell'impresa e il recupero dei margini di efficienza aziendale ottenuti in base al sistema di produzione WCM, World Class Manufacturing, un sistema che si basa sulla riduzione di spreco e perdita che coinvolge tutti. Si è accettato un po' la sfida che l'azienda ci ha proposto, quindi legandolo al WCM e legandolo non più solo al fatturato, quindi come era nei precedenti, però è quello che siamo riusciti a ottenere che è sostanzialmente positivo. Non vengono più tolti la questione dei 12 minuti in relazione alla legge 104, per chi ha il permesso 104 e per donazioni Avis e per qualsiasi altra cosa. Questo è un discorso che ci tenevo particolarmente perché è anche una questione etica. Abbiamo raggiunto un obiettivo che è l'obiettivo sia dei sindacati che dell'azienda per un futuro migliore perché l'azienda è sempre verso la crescita. Vogliamo crescere noi, vuole crescere l'azienda, quindi crediamo di aver fatto una cosa buona per tutti.